le prime risposte sono state a tre domande una delle queste era devo andare all'ospedale non giochi mi accompagna mi accompagni le macchine quindi il primo acquisto della prima macchina e da allora siamo arrivati a 11 macchine vetture per accompagnare le persone in ospedale a fare la spesa a portare un fiore e una preghiera al cimitero sono quelle di anteas macerata che svolge fino a 5.000 trasporti ogni anno nuovi mezzi arrivano a camerino per sostenere i volontari e quindi le persone dopo il sisma del 2016 parte dall'italia più fragile fidò bus il viaggio dell'associazione per la creazione di fiducia nel paese per un futuro condiviso noi abbiamo iniziato in questo territorio san ginesio tutta la comunità montana di san ginesio quindi 16 comuni e in questi due anni già abbiamo fatto servizi di trasporto in quel territorio anche in collaborazione per trasportare i bambini ragazzi dell'anvas siamo presenti a madelica a castelremonto e da oggi qui a camerino con la donazione di due nuove macchine una regalata dalla lombardia dalla dai pensionati dall'andessa della lombardia una regalata dai pensionati di altre otto regioni piemonte calabria sicilia puia eccetera inizieremo un lavoro qui a camerino un lavoro una presenza a camerino e l'impegno della presidenza di antea se ha i trasporti b una presenza vicino alle persone sole persone di tutte le età attive giovani meno giovani anziani però che abbiano appunto uno spirito di di solidarietà per aiutare persone anziane persone di tutti i tipi e con le quali istauriamo un rapporto di relazione che questo è molto importante perché la gente oggi si considera molto sola il santias non si è mai fermato anche durante i momenti più tragici del terremoto per cui questi volontari con questa forza con questa solidarietà che mettono a disposizione meritano di essere aiutati in questo loro percorso già il dono che qui stanno ricevendo delle auto e le cose che noi nel nostro piccolo anche come nazionale possiamo mettere a disposizione il premio di laurea piuttosto che i cartoon delle scuole che comunque sono progetti che si allargano poi nel territorio non rimangono partono da qui ma hanno poi comunque sono conseguenziali in territori più vasti questo ci fa proprio più ben sperare e siamo contenti che la cosa parte da qua. La sinergia FNP Anteas pur agendo in due campi completamente diversi che quello sindacale e quello invece del volontariato abbiano tutti quegli elementi sinergici sui problemi sociali dal welfare alla locale alla contrattazione sociale sui territori e al volontariato che esprime poi e affronta l'emergenza oggi di un territorio il primo carico è già arrivato giovedì parte la terza edizione del festival del mosciolo dal 28 giugno al primo luglio al porto antico di Ancona delizia per il palato il mollusco più amato risate con gli sketch di rana il comico anconetano Stefano Ranucci eventi collaterali per conoscere la costa anconetà nella città e ancora concerti eventi di musica e di danza. Oggi abbiamo iniziato con la cucina sono arrivati i primi 850 kg di moscioli questi giorni c'è il mare un po mosso quindi ci siamo accapparrati i primi 850 kg. Inizia domani non venerdì quindi inizia giovedì alle 18 e 30 sicuramente tanti moscioli a partire da presto diciamo le cucine alle 18 e 30 sono già funzionanti quindi chi vuol venire a mangiare i moscioli consigliamo sicuramente di venire il prima possibile chiaramente la cucina andrà avanti a oltranza fino a che non finiamo la materia prima. Abbiamo tutti eventi di contorno che vanno dalle visite guidate in moto barca quindi una barca che parte da porto antico arriva fino a porto nuovo e ritorna. La caccia al tesoro organizzata dai 16 forti di Ancona l'associazione i 16 forti è una cosa molto carina perché comunque sia oltre alla caccia al tesoro di per sé competitiva con un primo di moscioli per i vincitori. Sarà l'irlandese il venerdì ci sarà la birra Guinness a 3 euro per tutta la serata un gruppo che si chiamano Green Muscles in moscioli verdi è un gruppo anconettano ci saranno in Sean Connero che dopo il successo dello scorso anno li riproponiamo perché è stato veramente esilarante la serata. Ci sarà Patrick Pambianco che fa il tributo agli U2 insieme a Davide Di Luca. Vi aspettiamo numerosi da giovedì alle 18.30 fino a domenica 1 luglio.